Intanto grazie di essere venuti, buongiorno a tutti, io sono Donato Ala e mi sto occupando dell'organizzazione di insieme alla signora Luisa Carcangiu che è accanto a me e al presidente della federazione italiana golf che ben conoscete. I microfoni di EIA TV, abbiamo appena terminato la nostra conferenza stampa di presentazione e accanto a me uno dei protagonisti è il nostro main sponsor della manifestazione che è Marcello Capita, Marcello si occupa di immobiliare di alto livello ed è chiaramente molto interessato al target golf e quindi noi vogliamo che tu Marcello in pochissime parole ci dicessi un po' chi è Capita e Partners. Capita e Partners opera nel ramo delle compravendite immobiliari di fascia medio alta, quindi chiaramente ho abbracciato questa manifestazione o questa organizzazione proprio perché il golfista o chi solitamente gravita intorno al golf è un potenziale cliente per quello che è il mio prodotto di vendita, quindi non aggiungo altro perché non è solamente come si diceva una persona sicuramente ricca ma una persona che ha gusto e quindi nell'ambito del gioco può anche apprezzare diciamo quel tipo di immobili che io tratto, che non sono esclusivamente costosissimi però insomma di buon gusto, esattamente. Esatto, il buon gusto, lo stile di vita che noi vogliamo dare. Grazie a Marcello Capita. Il golf è turismo, il golf è cucina, il golf è l'indotto che c'è dietro il golf. A EIA TV abbiamo Stefano Enrica, presidente della Federazione Italiana Golf. Stefano, questa iniziativa credo che debba per forza, ormai ti sei così, ti sei messo avanti e quindi devi per forza dare un grande successo a questa manifestazione. Siamo entusiasti, Donato, è un piacere poter, intanto la garanzia di avere te come organizzatore perché sai bisogna anche guardarsi intorno, ma soprattutto devo dire è un piacere poter portare il golf, il gioco del golf anche fuori dai campi da golf perché sennò diventa qualcosa che viene localizzata solo nel campo. Invece bisogna fare una promozione diffusa, una buona promozione come questa. Si parla di golf ma non solo perché se si parlasse solo di golf diventeremo anche noiosi. Invece intorno al golf c'è tanto di più. Chiaramente speriamo che poi possa portare anche più giocatori, più tesserati per la nostra bella federazione. Grazie Stefano. Volevamo dare un evento di un livello abbastanza alto ma non esclusivo, ci tengo a dirlo perché questo evento serve proprio per far capire che il golf non è più come si pensava, ma il golf è diventato un pochino più popolare. La notte del golf, 8 dicembre lunedì al Convento San Giuseppe è un'opportunità per tutti gli amici di Cagliari per venire a trascorrere una serata davvero unica. Se volete venire alla notte del golf, provare a giocare a golf, degustare tantissimi prodotti isolani, non dovete fare altro che scrivere a redazionechiocciolagolfitaliano.it. Vi ricordo che EIA TV sarà presente alla manifestazione come media sponsor ufficiale, televisione ufficiale, dove faremo tantissime interviste e ci sarà una postazione apposita di EIA TV per dare spazio e voce a tutti gli amici che parteciperanno. Vi aspettiamo la notte del golf, 8 dicembre lunedì, Convento San Giuseppe a partire dalle 19.